devo assolutamente farvi un aggiornamento illuminante un po per ridere un po no sono appena tornata da un giro di spese e in questo così volersi far fare del bene voler fare del bene a se stessi eccetera eccetera detto ma senti domenica andiamo a farci la colazione al bar poi siccome questo bar che è fra l'altro una pasticceria tenuta da italiani carissimo ma insomma che se ne frega mi sono fatta questo regaletto come giustamente mi fa notare basta mettere prezzi alle cose e dopo sono andata detto adesso mi compro un fiore sono entrata in questo negozio in questa fioreria che si chiama tra l'altro sanremo e io so benissimo che appena finito il festival perché io sono sempre stata una divertitissima seguaccia del festival di san remo nel senso che per me antropologicamente è interessantissimo quest'anno no invece però sapevo che è appena finito e perché dico questo a sì per sanremo giusto forse per quello anche che ho detto vado a comprarmi il fioretto e niente per la prima volta entrando no per la prima volta ho incontrato la proprietaria che è una insomma un'anziana immigrata italiana di solito non c'è invece oggi c'era e entrando mi sono resa conto che è tutto un cuore adesso è tutto un cuore perché perché mercoledì è san valentino e lì ho detto ma vedi vedi vabbè oltre così aver detto alla proprietaria che venivo per comprare un fiore per me che non mi proponesse robe da san valentino che non voglio sapere quest'anno soprattutto non so perché ma sto anno proprio mi gira male e ho detto mi compro mi compro un fiore un fiore per me o lo chiede se c'era ancora i girassoli e poi vabbè ci siamo messi a parlare così e io ho detto nostra ma quest'anno proprio ho detto affanculo san valentino e lei ha capito si è messa a ridere perché l'italiana così abbiamo iniziato a parlocchiare mi fa allora sono per te e l'ho detto sì ma vabbè tipo una rosa vabbè dopo è sparita per cinque minuti ha detto ah se sono per te dopo di che è tornata e mi ha portato adesso vi faccio vedere praticamente delle rose rotte io non ho detto niente ma sono carine me le ha fatte me le ha fatte anche bene vedi vedi questo perché se ogni tanto si rompono tanto a te magari cioè non so vabbè nel senso che è niente insomma intanto mi ha chiesto il doppio di quello che io volevo spendere inizialmente per ste fiori rotti che io ho detto no scusi il mio budget era la metà e l'ho detto ne tolto ah no perché me ne aveva presi cinque non so io li avrei io li avrei regalati però vabbè è così e poi alla fine insomma niente abbiamo fatto un deal me li ha dati me ne ha tolti due mi ha dato per il prezzo che io volevo spendere ma al di là di questo stando lì ho realizzato questa storia della purple valentine insomma della viola valentino che secondo me a livello subliminale io sapevo o inconscio non lo so insomma c'è questa cosa che gira nell'aria con valentino 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 viola valentino non ci fosse per associazione e forse per quello ragazzi che che mi è arrivata quella canzone lì un po di giorni fa comunque è perché voi avete visto un episodio che risale almeno una settimana fa niente così allora ho pensato che probabilmente così cioè che ci sono un sacco di connessioni sinapsi nel nostro cervello nel nostro nella nostra anima che fanno delle associazioni libere e quindi niente questa cosa della della purple valentine la chiamo così perché dopo aver pubblicato la diciamo il momento danzato a casa di stamattina con il sottofondo by me mi è arrivato un messaggio facebook che mi diceva che appunto che mi toglieva l'audio perché maltrattavo non sono non rispettavo se non avevo i diritti io ho detto sì sì ce l'ho il diritto può darsi anche che me lo censurino nuovamente comunque così insomma bisogna sempre fare molta attenzione ecco era una cosa fondamentale da dirvi adesso la cosa fondamentale è questa è che l'auto ironia a volte salva da molte situazioni è così e allora peccato che ce l'abbiano delle peccato che non ce l'abbiano delle persone che si prendono molto sul serio non è che secondo me se ci avessero un pizzichetto di auto ironia magari certe cose un po disastrose non le farebbero ma vabbè niente altro dovevo dire no direi che quando devo fare dei piccoli delle piccole mise a jour dei piccoli update invece cioè faccio ste puntatone di sei minuti per cui ora mi censuro la purple valentine l'abbiamo diciamo poveretta spero che stia bene fra l'altro non so neanche più se è viva o cosa una bella bella tipa fra l'altro e io comunque no non voglio mica criticarla poi fra l'altro mi stavo anche chiedendo ma magari non l'ha scritto neanche lei il testo cioè noi non sappiamo se l'ha scritto lei il testo bisognerebbe fare delle ricerche anche lì però anche no e volevo solo così cioè anzi la ringrazio la signora valentino che oggi valentino anche lo stilista adesso fa una ricerca da che ci sono delle robe che poi ti portano sono delle piste e comunque la signora valentino io spero che stia bene la ringrazio pubblicamente oggi per avermi dato dei momenti di larità e non cioè lei ha fatto sta cosa fra l'altro 40 anni fa cioè canzone del 79 40 anni fa e è così grazie anzi bello questa 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 canzone che può tornare e cambiarti una due tre quattro cinque giornate voilà allora su questo saluti puntatona ciao